Oggi sono Roblox e siamo di nuovo prodottimi e oggi faremo questo che non ho capito che cosa è, forse è la cosa delle caramelle non lo so e poi il DJ si esameremo la nostra perché fa veramente schifo vediamo quando inizia 10 8 7 6 5 4 3 2 1 vai che si fa ah non l'avevo capito minchia di 800 candy vabbè ci vediamo quando può iniziare perché veramente ti fa avere molte candy che la dà non ho previsto questa cosa perché inizia tra mezz'ora ma che ho fatto sono direttamente sceso ma io prima mi sono molto carinissima no con questa ci si parla voglio prendermi qualcosa con 800 grammi e non ci si può fare niente 105.000 questo no dobbiamo tagliare come che si torna indietro tra mezz'ora inizia un altro quindi spero di sopravvivere ok adesso andiamo a fare la missione della scuola di gattino e dal fatto ci siamo presi un veicolo ecco qui andiamo 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 però devo prendere il fatto che se non arrivano più indietro ok ok saliamo che cos'è questo pizza party ok 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 adesso vai allora con la serie è il più brutto ci sono tanti belli c'è 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 lì mi insegnano altro? No. Oh che carino, aspetta, mi da qualcosa lui. Perché non ho niente. E qua si intendeva qualche volta. Ok, a questo punto non mi riusciamo a questa casa, perché se mi ricordo bene l'altra costava 499, quindi facciamo tutte le missioni. Vediamo un vino oppure si fanno le missioni e facciamo più soldi, quindi non lo so. Vabbè, iniziamo ad andare a fare il pizza partib. Non mi do un po' abituare a questo mondo perché è diversissimo. Allora, praticamente dobbiamo mettere un pochettino qua. Ok. Poi non lo so, l'olpetta. Sa bene? No. Davide? Che cosa? Vediamo, sentiamo. Un pochettino. Non sapevo che... Appena esce, ecco, si tolgo la... Quella cosa c'è nemmeno? credo Non lo prendiamo adesso, ok, poi cominciamo là. Ma dove c'è l'altra casa? Poi diventiamo bambini perché ci avevamo più soldi. E' 489, non 489, però la stia. E lo dobbiamo prendere, aspetta, questo è 900, ma questo è 500, ma questa è praticamente una pizzeria, vabbè poi c'è la lì, non lo so, vabbè. Vediamo che ci prendiamo con la 500, se è pronto. Poi, vediamo, tagliamo la chat che è da fastidio. Poi, vediamo. That's it. Va bene, non dice molto diretti, smacchiamo. Doviamo cercare di prenderci un uovo pure perché se lo stavo aperte non mi piace. che cos'è questo? Non ho aperto. Aspetta, che cos'è? Questo invece è per farti fare altre caramelle? Sì. Però non so cosa si fa. Vabbè, posso decidere. Ok, dai. 3 secondi mancano. 2. 1. Ok. Starting. Vabbè. Slif. Che significa? Spliff. Ah. Hexagon. Sì. Si può Hexagon. Ho ne troppo. Ecco. Dove regolarmi col salto. Qualcuno è già morto, ma dopo. Tampo pure io. Oh! Come si è fatto a togliere? Ma tu? Stavo continuando ad avere caramelle. Wow. Ah, che bello. Vabbè, adesso ritorniamo da... Vabbè, adesso ritorniamo da... Vabbè, adesso ritorniamo da... Vabbè. Vabbè, adesso ritorniamo da... Allora, adesso non mi posso ancora comprare niente, perché voglio il mulo. Carciopo carino. Aspetta, se mi butto giù faccio prima. Ho il cavallo medievale, che è bellissimo. Ma costa... 150.000. Ho il muro che costa 35.000. Poi il lupo zombie... Eh, lupo di lava. Baule? Sì, 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 sì. Il 3, devo chiedere a tutti. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Il lupo di fantasma. Ok. Ok, speriamo che lo accetta. Questa è il lupo fantasma? Quanto costa? Oh, non mi toglie più la visuale. Ok. La togliono pian piano. Ok. Ho il gatto. E questo. Ehi, se accetta. No, mettiamo qualche altra cosa, tipo questa. Ad. Che significa ad? Boh. Troppo ignorante con l'inglese. Questo è 15.000. Bellissimo. Cioè, è bellissimo quel carrice. Così che? Ecco, veniamo questa volta. Cioè, questo è ogni... 12.000. No, ma se... Se è solo questo. No, questo è troppo bellino. Lampino con denti da vampiro. Però questa quanta cosa... Eh, vabbè, 35.000 sta molto... Ma secondo me, però, no. Adesso dobbiamo tornare. Parrucchiere. Parrucchiere. Madonna, questo è... Il parrucchiere con uno giro cavoiano. Non c'è ancora. Madonna. Vai, vai, vai. Parrucchiere. E questo sì. Dobbiamo stare un po'. Aspetta, la ciambella. Ok. Eh, ma questo... Cioè, stanno tutti... Cioè, tutti che hanno un butto di cose. Io sono l'altro accanto. No, che è successo? No, che è successo? No, che è successo? Ma il gatto, il mio gatto, cosa... Rimane come la prima, vero? No, che è successo? No, io voglio come prima il mio petto. Vabbè, non so. No, se si può mettere il... Vabbè, non so. No, cos'è no. Facciamo cos'è? Bello. E andiamo a casa mia, così gli facciamo fare la doccia, il gattino. e soffiamo... E poi soffiamo... E poi soffiamo il liceo, perché... Guardate, guardate quanto sta durando. Questo è invisibile, la macchina è invisibile. Comunque il barbiere... Cioè... Lo faccio veramente schifo. Sì... 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 No, lo ho ancora... Voi vedere che ho cambiato l'immagine del mio personaggio. Sì... È giusto? Credo. Ok. Aspetta, forse se... Yes. Aspetta, se faccio slip. Ok. Mi sono... Mi sono... Eh... Mi sono... Non mi sono più ingogliato Vabbè raga Oggi non facciamo le missione Però facciamo questo Per fare tante caramelle E niente Ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao